Un'idea da pachidermi. Ludo, Isaia e Samir entrarono in un enorme tendone dove riposavano due elefanti. Ve li presento amici, annunciò Samir. Questa meravigliosa elefantessa qua si chiama Farfalla, mentre il suo inseparabile marito si chiama Mollica. Un barrito allegro salutò Ludo, Isaia e Ciunga. Il vecchio O'Clock si avvicinò all'elefante. Caro Mollica, dobbiamo chiederti un favore, disse Isaia, come se parlasse a una persona. Dobbiamo chiederti lo stesso favore che io e il vecchio Kun chiedemmo a tuo nonno, quella vecchia pellaccia grigia di biscottino, ai tempi del rajà di Kamamuri. Sei dei nostri? Mollica barì entusiasta e accarezzò una guancia di Isaia con la proboscide. Grazie, ti regalo una fornitura di arachidi da qui all'anno prossimo, promise Isaia. Il gruppetto uscì all'aria aperta. Mollica li seguì trotterellando. Samir si avvicinò al vecchio pachiderma e gli passò la pompa dell'elio. Ma cosa stai facendo? domandò Ludo a Isaia. Ti sei mai chiesta come facciano i palloncini a volare, nipote? Fece Isaia. No. Beh, è semplice. Li gonfiano con l'elio, un gas più leggero dell'aria. In quel momento Mollica afferrò la pompa con la proboscide e ispirò un po' di elio. La sua pancia prese a gonfiarsi lentamente. Non gli farà male? Ludo osservava la scena con una certa apprensione. Kun la tranquillizzò. Se Mollica dovesse farci capire che non sta bene smetteremmo subito. A un certo punto le zampe del pachiderma si staccarono da terra. Ludo non credeva ai suoi occhi. A quel punto Isaia legò alla coda di Mollica alcuni palloncini. Poi gli passò attorno al collo un enorme collare collegato ad un sottile nastro di seta. Anche al collare fissò una dozzina di palloncini colorati. Ludo non capiva il perché di quel gesto, ma era troppo meravigliata per farsi altre domande. Un elefante stava volando. Dopo dieci minuti Mollica si librava nel cielo come un aquilone, lanciando barriti di gioia. Isaia prese il nastro che aveva legato al collare dell'elefante. E state tranquilli, ve lo riporto prima che inizi il primo spettacolo! Urlò mentre usciva dalla zona del circo.